È stato l'eroe della giornata di Lega Pro che si è disputata ieri. Il portiere di Alatri, Anthony Iannarilli, con un gol messo a segno al 92esimo, ha evitato al Gubbio, squadra che milita nel girone B, la sconfitta casalinga contro il La Grosseto. L'estremo difensore Ciociaro, figlio dell'ex presidente della provincia Antonello, come spesso accade, si è portato nell'area avversaria su un calcio d'angolo per tentare l'ultimo assalto disperato ed evitare la sconfitta. Dalla bandierina il centrocampista Loviso ha messo in mezzo un pallone sul quale proprio Iannarilli si è avventato e con un colpo di testa imperioso ha spedito alle spalle del suo collega del Grosseto per l'1-1 che ha fatto esplodere di gioia lo stadio Umbro. Ironia della sorte, nella porta dei Maremmani c'era un altro portiere di Alatri, l'ex estremo difensore del Frosinone Michele Mangiapelo che nulla ha potuto sul colpo di testa del suo concittadino e collega di porta. Un aspetto davvero curioso che probabilmente legherà per sempre i due giovani portieri alla Trenzi. Per Iannarilli una giornata da ricordare, la sua prudezza è rimbalzata su tutti i siti internet facendo il giro del paese e dell'Europa. La sua squadra, il Gubbio, aveva subito il gol dello svantaggio soltanto tre minuti prima. Ma la giornata di campionato ha regalato anche altre emozioni al calcio della provincia di Frosinone. In Serie A è arrivata infatti la prima rete di Zappacosta, talento di Sora che milita con l'Atalanta e protagonista ieri a Marassi contro il Genova. Per lui un giorno davvero speciale.